il nostro treno comunque la carrozza qua è 16 vagone numero 16 da Odessa a Kharkiv bellissimi sono vagone 9 posti 15-16 questo è il nostro loc questo è il posto dell'aere gli ho messo gli ho messo il valigio qua sotto e abbiamo una signora qua davanti e un ragazzo da sopra questo era il treno nostro siamo arrivati a Kharkiv noi siamo andati tutti via abbiamo fatto amicizia con Albina che è una signora che fa la parrucchiera e basta, ora andiamo che è il samadar bellissimo grazie a tutti grazie a tutti